Allora, questa è una trincea che vediamo tutta ricoperta di foglie, di terra, di schifezze, di arbusti, ma noi siamo riusciti a scovarla soprattutto merito a questa bocchetta qua che entra dentro nel vuoto nella montagna. Prima ho provato ad entrare per 5 centimetri e si vede che la trincea va dentro in fondo ed è lunghissima. Verrete qua che fa questa curva e poi in fondo sono entrato qua di qualche centimetro e sono entrato dentro e la trincea è lunghissima, almeno 20 metri ho visto in profondità. Quindi questo si chiama, non lo so se è il trincerone perché prima abbiamo visto un'indicazione che c'è scritto trincerone, però è una bella trincea grossa questa qua, molto molto grossa e scavata nella roccia.